E urca milurca a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortale che ci ritroviamo qui signori per andare a completare la missione dopo quella che abbiamo fatto sempre degli incarichi di ricostruzione di andare a configurare la plic del dispositivo vicino al santuario A vamposo dei 7 o stazione sinapsi semplicemente ragazzi qui troveremo appunto dipende poi ovviamente ripeto dove andate dunque o andate qui o andate qui al santuario oppure qui sotto in basso è la stessa cosa In questo caso io sono andato qua perché ero praticamente vicino alla caverna me lo consiglio anche a voi in realtà Ok dunque ora dovremmo semplicemente distruggere i computer e i macchinari dei 7 per raccogliere i chip Dunque andiamo semplicemente qui da qualche parte dove questo dobbiamo andare Qui teoricamente ce ne dovrebbero essere qualcuno eh vediamo un po' Vediamo un po' ricaveremo i chip che ci servono dice o sono qua oppure sono qui vicino eh E praticamente ragazzi dobbiamo andare a distruggere i marchigieni per trovare i chip Difatti non li troveremo indipendentemente se andate appunto al santuario o qua dove sto andando io dovete andare appunto a distruggere praticamente i marchigieni Che dopo rilascero il chip qua vedo che non ce ne sono dunque andiamo subito di qua Praticamente sono dei marchigieni con il chip vediamo se questi ok vedi lo contano lo contano Per esempio dipende dipende eh ce ne sono diversi per esempio al santuario ci sono i cubotti proprio tipo i server E dunque dipende li conta quelli vedi per esempio qua uno Vedi due per esempio ragazzi dunque altri bislacco Zacchete ecco qua E il terzo raga lo possiamo trovare a sto punto qua sopra vediamo vediamo dovrebbe essere questo qua eh Eccolo infatti qua che se la bella che cade eccolo qua il tutto il suo splendore raccogli il chip i dati Molto molto easy dunque ragazzi raccogliamo e abbiamo completato la missione molto molto easy Ripeto potete andare anche da altre parti eh Cioè nel senso potete fare la missione qua e poi prendere un rift e andare anche da altre parti Però cioè se siete lì a sto punto fatela subito lì che non vi cambia niente Dunque ragazzi un bacione grandissimo noi ci vediamo in un prossimo video para live Assolutamente tra pochissimo visto che vedo che ce n'è un altro ancora Un altro ancora di configurare a campo cocco il circuito chonker oppure il daily bugle Ragazzi a tra pochissimo un saluto Grazie a tutti